ok dove andiamo ragazzi ma non carica la partita noi siamo già giocato 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 e comunque è grandissima a me non mi piace per le navicelle levando le navicelle è carino però non ho capito la motivazione di mettere le navicelle di lato mettere le navicelle e basta perché sono che vedete gli alieni tipo come truppe che stanno lì come quelle di là e della costella quando c'è stata la season della marvel c'erano quelli di là con i jet vitle a terra e stavano lì a difendere una cosa del genere che devono farlo comunque c'era gente gente faccio lo scudone oltre a tricibine forse ne cosa mi trovo ciao daniele ciao mio cugino ti segue dall'egitto puoi salutare un favore si chiama ciao cugino dell'egitto benvenuto in live ciao cugino dell'egitto dobbiamo andare in quel punto di là non ci sono dove di quel punto viola tipo dobbiamo andare lì c'è un fortiere che è da cosa buona vai 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 eh prima al massimo farsi tu e poi andiamo qui sono? ok arrivano una perda come da qui? ecco lo so troppo angolo ahi ma prima ok ma 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 sì bu Volevo spiegare, non c'è Oh, sai lì che andiamo a prendere di sforzare No, no È lì il tipo, ha rianimato l'amico 23, 23 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vieni qua Perché scavallo un po' di roba Chi sei David? Sì, che po' di Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Al volo A terra Arrivo C'è l'altra Ho pochissimi coltics Però vabbè vengo Niente, è scattato Noi C'erano viciato? Ho 3 mele di pit tante Eh io pure, però posso gli lasciarle qui Sì, sì Scudone e i pendoli sildini No, li ho così, è così Ok c'è la scuola Vabbè qualsiasi tre sono la beve E lì? Io lo so Contra Cazzo non è terzato i tipi corti C'è un altro lì? Andiamo 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 C'è un altro gente sopra Ciao David Bella da te Guarda 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 c'è un tt che vuole ah lì c'è uno uh una terra col secco c'è un altro lì lo sta curando c'è uno adesso a colpirlo abbiamo Se andrò Stai giurì Stai giù Stai giù E' un mabito 788 in testa E' morto Mi fa come un codone Morto questa cosa in testa non fa niente comunque siamo 2 contro 3 mio mio credo abbiamo salito io materiale poco ne ho andiamo sopra c'è la jump qua si l'ho messa io ok presa da te non sto spazando per perdere delle sole non è che sono così c'è un eric guardiamo 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 qua 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 non qua non qua non qua una p***a due a terra va, 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 va joder, vamos Ciao Bag Che bella partita ragazzi